Sare Cascio, insegnante di lettera a Palermo, cresciuta con Don Pino Puglisi all'interno anche del centro vocazionale. Puglisiana per definizione e su Don Pino Puglisi hai scritto diversi libri tra cui Beato tra i mafiosi e Giuseppe Puglisi, Sì ma verso dove? Sei coatrice di questi volumi anche insieme ad altri. Sono dei libri che approfondiremo nel corso di questa intervista però vorrei prima partire da una domanda. Chi era Don Pino Puglisi? Io risponderei con due parole. Un uomo coerente perché la parola coerenza è quella che dipinge al meglio Padre Puglisi. È stata una persona le cui parole combacevano perfettamente con le sue azioni e forse è molto attuale questo aspetto di Padre Puglisi. Oggi assistiamo a molte parole e a pochi fatti. Padre Puglisi ha dato fastidio perché era una persona autentica, ciò che diceva faceva e questo veramente dà fastidio oggi. domani sarai a Montelepre per dare la tua testimonianza per parlare di Don Pino Puglisi. Sì è una occasione insolita per me perché a Montelepre ci saranno per una settimana una serie di attività in memoria di Padre Puglisi in quanto la parrocchia di Montelepre accoglie le reliquie. Diciamo che è insolita per una mia scelta specifica di non legare troppo le mie testimonianze, i miei incontri, i miei dialoghi su Padre Puglisi a questa perigrinazio reliquie che personalmente non ho mai condiviso e l'ho pubblicamente anche detto allineandomi tra l'altro anche a posizioni di sacerdoti molto importanti e considerati dalla diocesi come per esempio Padre Stabile. La peregrinazio reliquie cioè queste reliquie che vanno in giro per le parrocchie a me sanno un po' di medioevo e di folklore. Forse sono un po' dura nel dire questo ma io credo che prima ancora di portare in giro delle reliquie sarebbe importante che la Chiesa porti in giro i fatti che Padre Puglisi ha fatto. In questo modo portando soltanto in giro delle reliquie si potrebbe diventare una devozione popolare che va sicuramente orientata diversamente. Il fatto di partecipare domani a questo importante evento all'interno della parrocchia di Montelepre è più legato alla decisione di cogliere l'occasione per poter parlare dell'autentico Padre Puglisi cogliendo l'occasione di queste reliquie che saranno lì. Bisogna passare dalle parole ai fatti che forse è l'insegnamento più grande di Don Pino Puglisi. Allora la domanda sorge spontanea dopo che abbiamo visto quello che è accaduto a Roma con un funerale show forse mai vista una cosa del genere almeno dal dopoguerra ad oggi. Un funerale decisamente spettacolare con l'immagine di Vittorio Casamonica appesa sul sagrato della Chiesa all'esterno della Chiesa dove vi era scritto è conquistato Roma ora conquistare il paradiso con lui vestito da bianco quasi imitare il Papa e una croce di legno al collo. Com'è possibile tutto ciò? Sicuramente a memoria sembra la prima volta però c'è stato un caso anche eclatante dei funerali in Canada di Rizzuto addirittura credo che lui arrivò con le barre d'oro ma tutto ciò ricorda molto il set cinematografico del padrino perché eravamo proprio dentro ad un film una spettacolarizzazione di quei funerali di un sentimento così privato che nessuno di noi immagino vorrebbe. Voglio dire quando muore un caro si ha la voglia di tenere privatamente il proprio dolore e condividerlo soltanto con le persone che veramente hanno amato quel caro. Usare una celebrazione di quel tipo per invece mostrare quello sfarzo è stato sicuramente un approfittarsi di un momento intimo per poter far vedere i propri muscoli. Questo mi ha seriamente inquietato non tanto per il fatto in sé perché già era capitato l'anno scorso alla Zisa che per i funerali di un affiliato si era fermato un po' il quartiere, si era gridata allo scandalo, primavera se non ricordo male la cresima di uno dei figli di Graviano e il cardinale Romeo che non si oppone al fatto che questo sacramento venga vissuto all'interno della cattedrale. Ha dato più fastidio il fatto che in cattedrale era seppellito padre Puglisi cioè quello che era stato ucciso per volontà di Graviano che in sé il fatto che un ragazzo che appartiene ad una famiglia mafiosa possa ricevere questo tipo di sacramenti così. Ecco forse è il momento di cominciare ad andare oltre anche come osservatori di questi fenomeni oltre le impulsive emozioni di sdegno e guardare molto di più a cosa significa tutto ciò. A me ha fatto riflettere su un punto importante la Chiesa è ancora molto indietro e indietro rispetto a quello che dovrebbe fare a partire dai suoi martiri. Padre Puglisi senza dubbio ma penso anche a Don Diana un altro sacerdote, penso anche a Rosario Livatino che non era un sacerdote ma che ai valori cristiani si ispirava per la sua azione. Ma voglio pensare anche a tutti quei sacerdoti e tutti quegli uomini di Chiesa non sacerdoti, uomini laici o donne laiche che lavorano per i valori del Vangelo. Esempi positivi che possono essere un salto di qualità importante per passare all'interno della Chiesa dalle parole ai fatti. In uno dei tuoi libri, Beato, fra i mafiosi, Don Puisi, storia, metodo, teologia, scritto insieme a Francesco Palazzo e ad Augusto Cavati, so che qualcuno ha un po' storto il naso per questo titolo un po' forte, un po' provocatorio, però sicuramente giusto sia per i contenuti del libro sia per quello che continua a essere purtroppo la storia italiana. Allora dico è più grave intitolare un libro così o continuare a far accadere e mettere in evidenza queste commissioni che continuano ad esistere tra mafio e Chiesa? Sì, anche in questo voglio dire il titolo di un libro è il titolo di un libro, può essere fortunato o meno fortunato. A me devo dire è piaciuto molto, non l'ho scelto io ma ho condiviso, quando mi è stata proposta in fase editoriale di scelta editoriale questa possibilità. In fin dei conti padre Puisi è stato un beato che ha vissuto il suo martirio tra i mafiosi, non soltanto i mafiosi di Brancaccio, ma la mafia in generale, che si concretizza poi nel territorio di Brancaccio, però in generale, se vogliamo guardare al suo esempio di Beatitudine, è proprio un esempio di carità cristiana in un territorio di mafia. Beato fare i mafiosi ha un significato attualissimo, perché ancora oggi non si è riusciti a cogliere il significato di questa beatificazione. Molto spesso io mi chiedo, ma perché farlo beato? Per poterlo poi inquadrare e metterlo all'interno della propria stanza e dire è stato un mio amico, piuttosto che all'interno di una chiesa e dire è stato un martire, e poi guardarlo e basta, oppure cogliere davvero, nei fatti, questo esempio, e questa è la finalità dei libri che cerco di scrivere, per fare ciò che padre Puisi ha fatto. Il libro è impreziosito da due testimonianze, che sono quelle di Padre Stabile e quelle di Salvo Palazzolo, che da rappresentante della FUCI all'epoca lavorava a stretto contatto anche con il parroco di Brancaccio. Però, come dire, anche il titolo di questo libro ha qualcosa di positivo, ovviamente, cioè comunque Don Pino Puisi è il primo martire beatificato in odio alla fede. C'è un po' di paura su questa creazione di una martirologia mafiosa? Dobbiamo aver paura di ciò per come è stato affrontato e per come abbiamo visto in qualche modo che non lo so se adesso probabilmente verrà aperto il processo di beatificazione per Don Peppe Diana, Rosario Livatino vi è un processo che è in corso da molti anni, Oscar Romero è stato beatificato da poco. Dobbiamo aver paura un po' di questo oppure è una cosa coraggiosa che deve essere presente all'interno del mondo della Chiesa? No, è importante. In fin dei conti, questo lo dico da cristiana, anche se il mio obiettivo è cercare di parlare in maniera più laica possibile, da cristiani abbiamo bisogno di esempi concreti, umani, che ci dimostrino che il messaggio di Cristo è praticabile. A volte sembra difficile per un cristiano riuscire a realizzare quello che Cristo rappresenta per la propria fede e avere degli esempi umani che ci dicono guardate è possibile, al di là di ciò che Cristo è stato ed è nelle nostre preghiere, nel nostro modo di rivolgerci a Lui, chiedendo magari, a volte lo facciamo da cristiani, un intervento divino per risolvere dei nostri problemi, invece Padre Puglisi, come tanti altri, sacerdoti in questo caso, perché stiamo parlando di loro, ma davvero ci sono tantissimi esempi che la Chiesa ci propone, ecco, elevare all'onore degli altari, degli esseri umani che hanno vissuto concretamente la loro vita, ci fa capire che il messaggio cristiano è praticabile, ma io voglio andare sempre al di là, perché Padre Puglisi non parla soltanto ai cristiani, e questo è un importantissimo elemento da sottolineare, perché molto spesso mi viene detto, vabbè, no, questo libro non mi interessa, i tuoi interventi non mi interessano perché, perché sono rivolti ai cristiani, perché parlano un certo linguaggio. Il mio obiettivo è proprio il contrario, cercare di far capire che ci sono dei messaggi che sono universali. Quello di Padre Puglisi nella fattispecie lo è, perché insegna come è possibile anche da non credenti operare all'interno di un territorio e scardinare le fondamenta di una impresa, organizzazione mafiosa, che del territorio fa la propria base logistica di controllo. Durante le intercettazioni che sono state rese pubbliche all'interno del carcere di opera, durante il colloquio tra Totò Riina e il suo compagno di cella, il boss pugliese, è venuta fuori una frase proprio di Salvatore Riina su Don Pino Puglisi, proprio sul controllo del territorio. Lui diceva, parlando con il suo compagno di cella, diceva attenzione, lui era pericoloso perché il territorio lo voleva comandare lui. e lui dice, ma perché questo non si faceva il prete? Come se, come dire, bisognerebbe fermarsi soltanto a quello, rimanere all'interno della sagrestia senza cercare di andare oltre, senza cercare di approfondire, senza cercare di essere perni fondanti all'interno di una società, avere un ruolo importante, che è e dovrebbe essere il ruolo della Chiesa, quello di essere guide, essere un punto di riferimento per tutti. Giuseppe Puglisi sima verso dove l'altro libro, Identichitti di un viato animatore vocazionale, scritto insieme a Roberto Lopez e Nino Lanzetta, invece, come dire, affronta la storia e la figura di Don Pino Puglisi, ma grazie, approfondendo soprattutto quello che era il metodo, quello che erano i suoi insegnamenti, e cercando di capire il percorso del parroco di Brancaccio, dai primi anni a Montevago fino ad arrivare agli ultimi giorni a Brancaccio. All'interno del libro vi sono anche delle tabelle molto interessanti che, secondo me, dovrebbero servire proprio come studio sociologico e come riuscire a far provi gli insegnamenti di Don Pino. Si, parto proprio da, perché è la chiave di lettura, parto proprio dalle affermazioni dei boss relative a Puglisi, ma chissà che voleva? Voleva fare il boss a Brancaccio? Insomma, si voleva sostituire a noi, dicono i mafiosi. Padre Puglisi non si voleva sostituire a nessuno, piuttosto è la mafia che nei territori si sostituisce ad uno stato latitante. E questo è fondamentale comprenderlo, perché studiare il perché Padre Puglisi ha dato fastidio alla mafia e anche capire che senso può avere questo martirio e che indicazioni di percorso la Chiesa può ricevere da un fatto del genere. Sì, io lo dico sempre, Padre Puglisi in qualche modo era diventato il boss di Brancaccio, nel senso più positivo del termine. Era diventato una figura di riferimento, era diventato la persona a cui tutti si rivolgevano le donne, i cui mariti erano in galera, i bambini che cominciavano a giocare non più con le pistole, ma con il pallone dentro la secrestia, insieme a Giuseppe Carini, oggi testimone di giustizia, che li faceva giocare lì dentro. Ecco, Padre Puglisi diventa il punto di riferimento per tutti loro e a poco a poco inizia una battaglia che va al di là, paradossalmente, di quelli che sono canonicamente intesi i compiti di una parrocchia, ossia amministrare i sacramenti. Comincia a mettersi insieme ad un comitato intercondominiale di cittadini di Brancaccio. Non è diventa il presidente, non diventa un leader all'interno di quel comitato. Questa è anche la grandezza di Puglisi, quella di far crescere la forza che intorno a lui incontra, fatta da uomini, da donne, che vogliono impegnarsi per qualcosa. Pino Martinez, rappresentante, insieme a tanti altri, di quel comitato, affianca la sua firma, quella di Padre Puglisi. Le battaglie fatte per i diritti nel quartiere di Brancaccio sono le battaglie del comitato che, insieme alla parrocchia e ad altri gruppi, opera in quel territorio. Una parrocchia moderna, una parrocchia che si assume le sue responsabilità fino in fondo, perché prima ancora che amministrare i sacramenti in maniera settica, una parrocchia deve costruire le proprie radici all'interno di quel quartiere e sociologicamente parlando Padre Puglisi parte proprio dai bisogni di quel territorio e lo fa in maniera competente mettendosi accanto quelli che hanno il mestiere di reggere il territorio, ossia le assistenti sociali che in maniera assolutamente gratuita lo affiancano nella lettura dei bisogni, nel censimento delle risorse e nella progettazione degli interventi che anche la parrocchia tramite il Centro Padre Nostro può realizzare. Questo significa diventare boss? Benvengano questi boss. Sarò la prima a tirare le mie energie verso questo tipo di attività che è assolutamente produttiva e non distruttiva come quella della mafia. Rosale Cascio è anche presidente dell'associazione Giuseppe Puglisi Sì, ma verso dove? Un'associazione che ormai esiste da molti anni che porta avanti gli insegnamenti di Don Pino Puglisi ma quali sono anche le attività che sono state fatte e che vengono fatte? Beh, intanto questa associazione è unica perché i soci fondatori dell'associazione sono tutte persone siamo tutte persone cresciute con Padre Puglisi cresciute non soltanto perché abbiamo ricevuto degli insegnamenti da lui o una formazione ci siamo formati con lui ma perché alcuni di noi hanno anche lavorato a fianco di Padre Puglisi per esempio Roberto Lopez con cui ho scritto il libro sul metodo ha lavorato nel periodo in cui Padre Puglisi era a Godrano pur essendo lui di mezzo uso andava a Godrano ad animare la parrocchia con Padre Puglisi o Nino Lanzetta che è l'altro autore ha vissuto tutto il periodo dei campi giovanili a fianco di Padre Puglisi come collaboratore abbiamo voluto in qualche modo mettere insieme tanti tasselli che ognuno singolarmente rappresentava un pezzo di Puglisi ecco perché è unica nel suo genere la bellezza di questa associazione è che è sempre in crisi per il semplice fatto che non riusciamo mai a realizzare concretamente delle azioni precise perché ognuno di noi è impegnato nel proprio ambito che prima ancora di ritrovarci in associazione aveva iniziato a coltivare da Puglisiano c'è chi insegna come me lo fa in un certo modo da Puglisiana c'è chi è medico per esempio c'è un cardiologo tra di noi che fa il cardiologo da Puglisiano che vuol dire fare il cardiologo da Puglisiano vuol dire per esempio non limitarsi ai propri turni di lavoro ma andare oltre se c'è un paziente che aspetta la tua parola di conforto perché lo hai operato tu al cuore essere Puglisiani da cardiologo vuol dire anche umanizzare il proprio lavoro ci sono tantissime persone in associazione che sono impegnate nella propria parrocchia con gli scout con i migranti penso a Mariella Palermo che è compadre Sergio Natoli è impegnatissima nella pastorale dei migranti e questo è un periodo caldissimo per loro e allora tante volte ci chiediamo perché come associazione non riusciamo a volte a concretizzare perché forse il nostro carisma è quello di crescere in associazioni insieme e rendere come gruppo testimonianza di ciò che Padre Puglisi è stato e può essere per gli altri ma abbiamo anche il compito di dare degli esempi di come cioè ciò che noi abbiamo ricevuto può diventare non un tesoro prezioso ma un modo di agire nella nostra vita con le nostre famiglie e nei luoghi in cui ci troviamo ad operare quindi velocemente noi abbiamo facciamo tantissime testimonianze non soltanto andando in giro a parlare di Padre Puglisi e facendolo conoscere in un modo non a geografico cioè raccontando la sua vita e basta ma parlando nei fatti di cosa lui faceva scrivendo dei libri la cui finalità è esclusivamente quella di divulgare il metodo Puglisi e questo lo facciamo in maniera assolutamente gratuita come in maniera assolutamente gratuita realizziamo anche degli spettacoli cioè da tutte le nostre attività non ci sono non richiamiamo assolutamente nulla per una scelta ben precisa che deriva fondamentalmente dal fatto che abbiamo ricevuto così tanto da Padre Puglisi che non ci basterà una vita per restituire e poi perché Padre Puglisi ha fondato tutta la sua azione umana e pastorale proprio sulla gratuità che per noi ha un valore fondamentale dal 93 la chiesa è molto cambiata questo è innegabile sono stati fatti dei passi avanti se guardiamo anche all'interno del territorio di Partinico vediamo il rappresentante della diocesi di Monreale che è il monsignor Michele Pennisi vediamo come rispetto ai suoi predecessori tranne la parentesi diciamo del Vescovo Onaro vediamo c'è proprio una grande differenza una differenza di impostazione una differenza di contenuti in Sicilia e ancora più in Italia però si fa ancora tanta tanta fatica se oggi in Sicilia abbiamo delle persone come Pennisi come il Cardinale Montenegro piuttosto che il Vescovo di Mazzara o il Vescovo di Acireale diciamo che per il resto ancora si fa un po' fatica ad affrontare il fenomeno mafioso all'interno della Chiesa e all'interno della società in cui la Chiesa ha una grande ha una grande influenza se questo lo spostiamo a livello nazionale questo quadro forse le aspettative sono ancora più basse però come dire è innegabile che si va prendendo sempre più coscienza di tutto ciò penso anche a tante tante belle figure tanti parroci impegnati potremmo fare tanti nomi da Don Giacomo Panizza passando per i tanti parroci che in modo anonimo e silenzioso lavorano quotidianamente però come dire ancora su nonostante diciamo le parole forti di Papa Francesco nonostante l'evoluzione dei rapporti tra mafia e Chiesa c'è ancora questo nocciolo che continua a essere stretto e non non riesce non riesce a essere tolto perché qual è il motivo vero in tutto ciò io credo che ancora in questo senso la Chiesa si afferma ad una visione quasi pappalardiana cioè del cardinale pappalardo la mafia è un fenomeno sociologico e quindi deve essere affrontata da altri ancora non si è fatto uno sforzo maggiore oltre cioè le parole di condanna che sono molto forti e già da sole danno delle indicazioni precise quando il papa dice che i mafiosi vanno scomunicati questo ha una richieduta poi nell'amministrare i sacramenti per esempio di un certo tipo non sarebbe dovuto accadere per esempio quello che è accaduto a Roma dopo le parole di condanna di papa Francesco celebrare in quella maniera quei funerali è stato sicuramente un grande autogol è necessario adesso superare questa importante fase che stiamo vivendo in cui la chiesa sta cominciando a prendere coscienza di essere un punto di riferimento importante a cui guardano i cristiani per avere delle indicazioni anche relative a come muoversi rispetto a certi fenomeni la chiesa questo lo fa penso alle battaglie a volte anche strane che per esempio sta facendo contro questa pseudo teoria gender mia suocera l'altro giorno mi ha raccontato che il parroco della sua parrocchia ha fatto dei proclami contro questa teoria ha invitato i presenti ad andare al comune a dichiarare di essere contro una presunta legge delle spettatori che magari hanno un po' le idee confuse io l'altro giorno mi sono imbattuto in un documento ufficiale della diocesi di Padova tra l'altro dove proprio interveniva a chiarimento un po' della questione gender che in molti collegano con la cosiddetta riforma della buona scuola con la quale invece non c'entra nulla ecco se magari riusciamo un po' a spiegarle cerchiamo anche di capire quali sono le verità dei fatti le verità difficili perché ci sono sicuramente sensibilità che vengono toccate da chi è a favore e chi è contro sicuramente ci sono degli studi sul gender che sono molto interessanti e che guardano a come oggi l'identità personale non si costruisca soltanto attraverso la identità biologica ma soprattutto attraverso un'identità sociale voglio dire se una bambina vuole giocare a pallone questo non significa che sia omosessuale ma significa semplicemente che ha voglia di giocare al pallone su questo si deve cominciare a lavorare perché va sicuramente reimpostata la società su valori diversi la chiesa è capace di fare delle battaglie incredibili anche costruendo cosa che sta avvenendo purtroppo con la disinformazione di questi giorni documenti prediche dall'altare che non hanno fondamenti dal punto di vista della realtà perché appunto sul piano della buona scuola non è compresa nessun tipo di rivoluzione di educazione sessuale presunta considerata cioè si considera addirittura che noi insegnanti dovremmo insegnare i bambini a masturbarsi e se non lo facciamo rischiamo addirittura il licenziamento questo è quello che viene detto in giro che addirittura bisogna andare a firmare nei propri comuni di appartenenza dicendo di non volere che la scuola dei propri figli educhi a questo tipo di valori il figlio sono tutte delle falsità che non hanno fondamento reale penso che nei comuni si faranno delle risate quando qualcuno andrà a chiedere di firmare non so cosa però sicuramente l'uomo comune la donna comune torna a casa e dice il prete mi ha detto questo ma cosa voleva dire ecco io mi interrogo tante volte dico i cattolici sono capaci di fare delle battaglie incredibili anche smontando dei castelli in aria su realtà che non esistono e su un'importante questione come l'affermazione del Vangelo di un territorio che è nelle mani della mafia ognuno si gira dall'altro lato e dice ma in fin dei conti io mi faccio la mia vita e chi me lo fa fare ecco è necessario cambiare prospettiva lo dico per il sangue versato da questi martiri che non sono soltanto i martiri cristiani noi abbiamo purtroppo un lunghissimo elenco di nostri concittadini che sono morti non perché volevano fare gli eroi ma semplicemente perché facevano il loro lavoro è necessario che la Chiesa riparta con umiltà da certe posizioni per poter dare delle indicazioni di percorso chiare negli anni passati per esempio la Chiesa calabrese i vescovi calabresi riuniti in conferenza episcopale hanno stirato dei documenti che danno delle indicazioni precise al sacerdote del piccolo paese Calabro nel pizzo di montagna su come comportarsi rispetto a certi fenomeni questo è già un passo in avanti lo facessero tutte le conferenze episcopali italiane considerato che ormai il fenomeno mafia è un fenomeno che appartiene a tutta purtroppo l'Italia ma nemmeno questo va bene è necessario cominciare anche a insegnare all'interno dei seminari per esempio come operare dai parroci all'interno di certi territori insomma io penso che va fatta una rivoluzione culturale ed educativa all'interno dei piani anche di formazione per i sacerdoti che altrimenti quando si troveranno la famiglia del bosso Casamonica o chi per lei che il prete sapeva sicuramente chi fossero governavano il territorio in maniera assoluta quindi come dire se senti Casamonica a Roma arriva il discorso è proprio questo non puoi dire io non sapevo chi erano perché lo dicono gli intervistati non presenti ai funerati perché partecipanti ma proprio perché osservatori di quello scandalo che stava succedendo dicevano i Casamonica in quel quartiere comandano appena senti quel nome tremi e quindi se ti arriva uno che dice devo celebrare i funerali di un mio congiunto che si chiama Casamonica se non altro il prete si doveva interrogare su chi potesse essere questo Casamonica ecco però io mi chiedo ma quel povero prete adesso non lo voglio giustificare perché non condivido assolutamente quello che ha fatto ma un prete che si trova una famiglia del genere ma è destinato per forza a fare il martire oppure deve essere accompagnato deve essere attrezzato deve essere aiutato a realizzare azioni che possono essere anche coraggiose certo padre Buisi non aveva niente di tutto ciò anzi sappiamo che all'interno della sua diocesi non è che fosse poi così amato tanti sacerdoti dopo la sua morte mi hanno anche detto di essere andati da Pappalardo quando lui era a capo del centro diocesano vocazione a dire ma perché lui deve avere soltanto i giovani e non anche una parrocchia perché soltanto noi gravati da più incarichi ecco non si capiva che padre Buisi fosse il senso di quello che lui stava facendo si è costruito una formazione da solo e questo lo ha portato anche in quel territorio in maniera attrezzata ad affrontare la forza dei Graviano che mettevano le bombe a Roma e a Milano e si occupavano nel territorio di questo piccolo prete che era padre Puglisi speriamo che il corso il nuovo corso di Papa Francesco sia vero anche un corso di rinnovamento soprattutto all'interno della Chiesa soprattutto che all'esterno di sicuro le belle speranze come dire ci sono hanno dei nomi e hanno dei cognomi adesso basta semplicemente prendere consapevolezza e adeguarsi con gli strumenti che per fortuna oggi abbiamo certamente grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.